Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono in crisi a confermare l'indiscrezione sono i due cantanti a Lanza. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo hanno un figlio di 7 anni che si chiama Andrea frutto del loro grande amore. Le voci su una crisi sentimentale erano insistenti già da tempo ma mai confermate dai due diretti interessati. Anna Tatangelo pubblicava spesso foto con il figlio Andrea su Instagram ma non c'era mai Gigi D'Alessio. I due cantanti convivevano da dicembre 2006 e nel 2010 è nato il loro unico figlio Andrea ora di 7 anni. Gigi D'Alessio ha lasciato la moglie Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli Claudio, Ilaria e Luca. I due cantanti riusciranno a superare questo momento di crisi o la rottura sembra essere ormai definitiva. Gigi hai sbagliato a sprecare quei tre righi sulla gente che ti odia, occupati di noi che ti amiamo. Avete portato anche la famiglia. Con i bambini per Gigi da Palermo ghiacciati. È unico, oltre ad essere un artista è un grande uomo.